Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Taranto Gelbison, prima delle consuete domande c'è un intervento di Vittorio Caligari, prego. Buongiorno a tutti, il nostro intervento a nome della società è riferito a quanto accaduto in settimana sulle dichiarazioni di Saveriano Infantino, la società ha valutato e si è informata presso i legali dell'azienda e ci sono degli estremi per la sanzione dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista legale, per cui la società sta attivando tutte le procedure, informando la procura federale e allegando la dichiarazione rilasciata da Infantino e poi dal punto di vista legale, chiaramente il nostro allenatore avrà tutto l'appoggio della società per tutelare la sua immagine deturpata dalle dichiarazioni assurde rilasciate da Infantino. Questo era giusto, tornarci sopra stamattina in modo che si sappia, perché è una cosa estremamente grave e non è giusto farla trascorrere così. Ok? Va bene, ringraziamo. Ci sono domande? Perfetto. C'è il mister? C'è il mister? Allora, partiamo con le domande per il mister, come sempre inizia il media partner in Rantella Sud, puoi asseguire tutti gli altri. Grazie. Allora mister, naturalmente tutte le partite sono importanti, lo sappiamo, non siamo banali su questo, però è un taranto che sicuramente sta mutando anche un po' volto, un po' forma con quelle che sono le novità del mercato e c'è questa partita con la Gelbison che è fondamentale con tre punti da guadagnare. Intanto buongiorno a tutti. Noi abbiamo fatto, secondo me, un mercato molto dirigente, non siamo venuti meno a quello che avevamo promesso e quello che era il nostro intendimento. Ci siamo, abbiamo cercato di rinvinquare la rosa perché eravamo pochi, prendendo dei giocatori giovani, secondo me di assoluto valore, e anche in funzione futuristica. Tutte le squadre si sono rinforzate, era giusto che lo facessimo anche noi, per far sì che poi non avessimo dei rimorsi su tutto il capolavoro che abbiamo fatto nel giro dell'andata. Sono arrivati dei ragazzi splendidi, io avevo sempre detto che coloro i quali dovevano arrivare dovevano avere la loro stessa mentalità. Si sono integrati benissimo, oggi abbiamo più scelte. Ringrazio ancora una volta la proprietà, i direttori che ci hanno dato questa possibilità di esaudire quelle che erano le richieste dello staff tecnico. Sulla partita di domani che bisogna dire, noi siamo in un ottimo periodo di forma anche se non facciamo gol da parecchio. La partita di domani è una partita difficile perché si gioca contro una squadra che concede poco, una squadra molto fisica, una squadra ben messa in campo, ma noi domani abbiamo un solo risultato, la vittoria. E' inutile girarci dietro, possiamo essere belli, brutti, bruttissimi. Domani è una partita da vincere perché oltre che uno scontro diretto significherebbe metterci in una posizione di classifica più tranquilla. Abbiamo un'occasione importante con tutto e tanto rispetto per questa squadra, lo ripeto. E' una squadra soprattutto che fuori casa si chiude bene. Era in vantaggio a Crotone fino a poco dalla fine, ha preso con la Pescara sul finire. E' una squadra, ripeto, affatta di giocatori esperti, bravi per la categoria, guidata da un tecnico emergente, neofita per la categoria, che secondo me sta facendo un gran lavoro. Però è inutile girarci intorno, noi domani si deve vincere. Il resto non conta nulla. Come arriverà la vittoria? Noi domani dobbiamo vincere per confermare tutto quello di buono che stiamo facendo. Lo ripeto, con tutto e con tanto rispetto per questa squadra, convinti che sarà una partita difficilissima, ma bisogna vincere. Sì, Luigi, arriva dentro lo sporco. Ci sono questi due dati, però spiegami tu se sono in controtendenza. Due gol incassati in ultime sette partite e non si fa gol da 417 minuti. Puoi fare una riflessione su questo? C'è una spiegazione secondo te? Sicuramente, però sono due cose diametralmente opposte. La mia squadra, voglio dire, è una squadra equilibrata, lo dico per l'ennesima volta. A prescindere con gli ingassati, di cui uno su un rigore non ci voglio più tornare, l'altro al novantesimo, l'ottottesimo a Messina. È una squadra che è difficile attaccarla, ti concede poca profondità, chiude bene gli spazi. Quindi è una squadra che concede poco. Per quanto concerne i numeri, i numeri purtroppo non mentono. Noi sono quattro partite che non facciamo gol, però è pur vero che nelle ultime quattro partite abbiamo sbagliato tanto. Non ultima quella di Andrea, tre legni fuori casa, due palle non sfruttate benissimo, è vero che si poteva prendere anche gol nella maniera più assoluta, perché poi alla fine l'unico tiro in porta, in una mischia, quando fuori casa fai tutte quelle azioni da gol e non fai gol, poi alla fine rischi anche di perdela. Però secondo me abbiamo fatto un grosso risultato su un campo difficilissimo, è normale, però non dobbiamo andare domani con la frenesia e con l'ansia di dover far gol a tutti i costi guardando le statistiche. Noi siamo una squadra che sa quello che deve fare in mezzo al campo, sicuramente non ci faremo portare dalla voglia immediata di far gol. Io dico che la vittoria è una lunga attesa e l'attesa dura 90-95 minuti, quindi il gol lo puoi ritrovare in qualsiasi momento della gara. Buongiorno mister, i numeri parlano chiaro per il Taranto, perché in effetti abbiamo preso solo un gol, se consideriamo per giunta su rigore, possiamo dire che nelle ultime partite non si è preso gol, ma non si sono nemmeno fatti. Quindi questo è fondamentale per gli innesti che lei ha voluto e con la dirigenza avete fatto il punto che è arrivato, quindi la squadra è S quadrata. Io direi che possono, potrebbero cambiare gli obiettivi del Taranto a questo punto, se alla partenza già da domani fosse buona. Io cerco di essere sempre equilibrato, soprattutto nella vita, a precine del calcio. Noi quando siamo arrivati, perché altrimenti diventiamo leggermente preoccupati, perché io il martedì ho letto, perché mi piace leggere addirittura il punto di Andrea, non andava bene, qualche vostro collega magari ci è rimasto anche male. Allora io ho fatto la battuta, ma prima si era una squadra così, adesso siamo diventati il ber di Monaco nella maniera più assoluta. L'obiettivo del Taranto è il mantenimento della categoria, perché quando siamo arrivati nessuno ci dava un soldo, attraverso il lavoro, attraverso tante componenti, soprattutto l'applicazione di questi ragazzi che non smetterò mai di ringraziare. La società non ha mai fatto mancare nulla e ci ha dato la possibilità di fare dei risultati impensabili. Oggi siamo intervenuti sul mercato, sicuramente siamo più competitivi, ma quantomeno a livello numerico e onestamente altrimenti mi prendo per i fondelli, la qualità della squadra si è alzata in maniera esponenziale. Voglio dire, oggi possiamo variare, ti giri in panchina e sai chi metterli in campo. Prima, poverini ragazzi, giravo in panchina, c'avevo Alfieri, c'avevo Livio per fare una battuta, per essere un po' sarcastico, avevamo poco. Però l'obiettivo nostro, lo ripeto, è la salvezza. Lo dovessimo fare senza i play-out sarebbe una grande cosa. Ma questo non significa che noi ci adageremo. Nel momento in cui noi avremmo costruito la salvezza, l'ho detto prima, lo dico adesso, ma l'ho detto anche quando sono arrivato. Noi cercheremo di fare un punto in più, cioè tutto quello che ci è possibile, perché noi rappresentiamo Taranto. È inutile enfatizzare. Non rappresentiamo né una città piccola, né una situazione calcistica non con questa storia. E quindi nel momento in cui andiamo in campo noi dobbiamo rappresentare questa città anche nelle amichevoli. Quindi è normale, se noi dovessimo fare punti, continuare a fare bene, non ci limiteremo a nulla. Nessun obiettivo lo lasceremo. Questa è la mia parola d'onore. Salve Ministero Daniele Cretti, Corona Chetalantini. Hai detto che domani è importante la vittoria. Certo. Come arriva non ci interessa. C'è la possibilità, tu hai parlato sempre comunque di equilibrio, un po' ti conosco, voglio dire, non so che formazione mettere domani, però da quello che ci hai fatto vedere sicuramente manterrai sempre quell'equilibrio. Ma forse c'è proprio nella partita di domani, non dico il coraggio, però almeno subito partire con una batteria più pesante. Io non so poi come li sistimerai. Giocatori giocare praticamente con un trequartista e due punti, lo hai anche detto, voglio dire. O vuoi vedere come va la partita e poi magari, ecco, ora che hai una pacchina più importante, poi a seconda di come va la partita inserire questi attaccanti. Domani c'hai comunque a disposizione tutti, c'hai Tommasini che è rientrato da squalifica, Rossetti, Semprini, Acleri, insomma, voglio dire, c'è una buona batteria. Ecco, perché comunque non tentare magari con giocare con più attaccanti? Lo hai fatto con la partita con la Turris, giocando con Rossetti e Tommasini. Hai cambiato con l'Andrea, giocando diciamo con una, non dico una mezza punta, insomma, con caratteristiche diverse, che ha più qualità, Naclerio, voglio dire, Semprini. Ecco, giocarci subito, mettere subito più pressione alla Gelbis. Tenendo conto che loro hanno uno squalificato importante, il difessore centrale, il Gili, che è anche un buon giocatore. E poi un'altra considerazione, se è solo una considerazione così, una casualità, ho visto molto meglio sempre il Taranto nei primi tempi, voglio dire, un po' più costante, voglio dire, rispetto alla ripresa. Che cosa accade? Grazie. Sulla prima domanda, voglio dire, se io fossi convinto che mette 8 punti in campo, tutte le squadre metterebbero. Io dico sempre che è importante quello che vuoi fare, con quanti uomini vuoi attaccare, vuoi accompagnare la fase d'attacco, chi sono gli interpreti a prescindere dal sistema di gioco. Sicuramente oggi ho la possibilità di variare tante cose, però tenete presente che sono giocatori che sono arrivati da poco, quindi vanno adattati nella fase didattica, in tutte le componenti, anche sui piazzati contro, su tante dinamiche. Quindi la mia bravura in questo momento è di non dare confusione e di dare quanto maggiore tranquillità e certezza alla squadra. Sicuramente ho la possibilità di cambiare, di variare, ma questo non significa, secondo me, questa è una mia convinzione, che giochi con 5 punti e vinci la partita. Fosse talmente convinto, perché poi c'è anche la fase di recupero palla, c'è la fase di non possesso. Io posso dire sicuramente che domani potremmo proporre delle situazioni diverse, sia negli interpreti, interpreti, ma nelle giocate. Su questo sicuramente non c'è ombra di dubbio. La seconda domanda? Ma noi siamo una squadra che approccia bene alla gara, perché siamo una squadra ignorante, sotto il punto di vista proprio dell'applicazione, dell'abnegazione, difficilmente sbagliamo un approccio alla gara. E magari il primo tempo è di alta intensità, poi è normale che quei minuti non è che caliamo mentalmente, ma va scemando. Questo per me è un grande complimento, perché mandare sempre una squadra in campo che regge l'urto iniziale a livello emotivo, a livello di interpretazione, non è facile. Salve mister. Buonasera. Buongiorno. Io mi concentro, il collega ha parlato di batteria avanzata, io vorrei un attimo concentrarmi sul centrocampo, perché consideriamo che anche lì ci sono delle varianti, delle variazioni proprio anche alla luce del mercato. Quindi da una parte volevo sapere una sua opinione in merito al fatto che la linea nevragica possa effettivamente con questi acquisti aver acquisito una nuova mentalità, più che altro una nuova estetica, al di là del pragmatismo, perché si dice sempre che il Taranto sia una squadra di sostanza, come giustamente deve essere per l'obiettivo della salvezza, però nello stesso tempo voglio andare controcorrente qualcosa di più qualitativo e di estetico nelle giocate si è visto. E poi l'alternanza, anche questo assortimento all'interno dell'astra nevragica stessa. Intendo soprattutto le posizioni che le ha variato in queste ultime partite Provenzano, Mazza, Labriola e poi se ci può illustrare naturalmente quello che potrà dare Crecco, visto che non lo conosciamo ancora, e poi è arrivato anche il giovane Citarella. È una domanda generica, così però ci siamo. È una domanda complessa ma molto diligente. Io ho sempre detto non vengo mai meno a quello che dico, penso di essere una persona coerente. Io ho fatto la battuta che il cuoco deve mettere a disposizione di chi si siede a tavola quello che ha una pietanza con l'ingrediente che è a disposizione. Sicuramente l'ingrediente in qualità della mia squadra in questo momento si è alzato in maniera notevole quindi sicuramente proporremo qualcosa di diverso. Ecco, su questo non c'è ombra di dubbio però non dimenticando quella che è stata e che è che sarà sempre la nostra caratteristica l'applicazione l'abnegazione la fase di aggressione la fase di riaggressione a prescindere le qualità di qualità della squadra è inutile non dirlo sarei un'ipocrita si è alzata in maniera esponenziale e quindi questo sicuramente ci potrà dare delle soluzioni importanti nella fase iniziale della gara e anche in partita in corso. Per quanto concerne Mazza Labriola Provenzano io ho messo sempre nella mia carriera chi meritava di giocare quindi a prescindere quando un giocatore con me non gioca perché vuol dire che non merita di giocare quando gioca vuol dire che merita di giocare poi tutto il resto è aria fritta perché poi il giocatore quando non gioca ha sempre delle scusanti io il calcio lo conosco e lo faccio da una vita quando il giocatore non gioca dice che è colpa del preparatore atletico perché magari lo ha imballato per usare un termine agricolo oppure perché magari l'allenatore ci capisce poco io penso che nessun allenatore al mondo non voglia vincere l'allenatore è un uomo solo la vittoria a cento padri la sconfitte è orfana ricordatevi questa parola se vuole la ripeto la vittoria a cento padri la sconfitte è orfana quindi è sempre l'allenatore che va a casa è l'allenatore che è soggetto a tutte le critiche e qualche volta anche all'enfatizzazione quindi io non penso che ci sia un allenatore al mondo altrimenti non è che non sia un allenatore poi se è un delinguente o se è un ipocrita quello allora non può fare quel messiere quindi differendomi alla domanda di prima io metto in campo chi in quel momento merita merita in funzione di come si è allenato di come sta fisicamente se ha avuto la febbre se non ha avuto la febbre perché poi tante cose nemmeno si sanno quindi chi va in campo anche domani dall'inizio merita di giocare chi non va in campo probabilmente in quel momento non merita perché c'è qualcuno più allenato sì Crecco è un giocatore penso che non ha bisogno di presentazioni cioè Crecco era uno dei prodotti più importanti nella Lazio doveva fare una carriera diversa siccome è un ragazzino perché ha 26-27 anni noi l'abbiamo preso per il presente per darci una mano per raggiungere l'obiettivo ma l'abbiamo preso per il futuro come abbiamo preso tanti ragazzi perché i giocatori che abbiamo preso sono di proprietà qualcuno che l'abbiamo preso in prestito abbiamo un diritto di riscatto oppure tocca a noi decidere se lo prendiamo o non lo prendiamo così chiarisco tutte le situazioni Crecco è un giocatore che può fare la mezzala di inserimento con caratteristiche diverse come dicevo prima una domanda al suo collega può giocare sull'esterno addirittura lo scorso in B a Vicenza ha fatto l'esterno di destra basso essendo anche un sinistro è un giocatore completo è un giocatore che ha un gran calcio molto intelligente nella fase di inserimento ritengo che per la categoria sia un ottimo giocatore Citarella è un giocatore giovane è un 2003 tra altre cose il 2003 come voi ben sapete non vanno nemmeno in lista e quindi è un giovane su cui la società noi abbiamo puntato anche in funzione futuristica Buongiorno mister a proposito i giovani sono arrivati anche Siracusa e Canalicchio come si stanno integrando questi ragazzi e cosa possono dare in più a questa squadra e poi una domanda sulla condizione fisica della Rosa c'è qualche acciaccato o comunque stanno tutti bene ma sono giovani l'ho detto prima mi sembra che il meno giovane che abbiamo preso non vorrei errare è proprio Sciacca 96 diciamo meno giovane 26-27 anni ma è giusto così perché nel calcio se non corri devi andare devi smettere quindi quando prendi dei giocatori a meno che non hanno un ruolo particolare voglio dire per il calcio che intendo io bisogna correre e per correre bisogna essere freschi e per essere freschi bisogna essere in età questo per quanto concerne appunto mi riferivo agli arrivi che sono arrivati i giovani noi l'abbiamo detto prima abbiamo preso tutti i giocatori giovani soprattutto per il futuro oltre per il presente che ci devono dare una gran mano a mantenere a mantenere la categoria la seconda domanda qual era? beh è normale c'è stato qualche giocatore non lo voglio dire giocatori importanti che per due o tre giorni non si sono allenati per problemi qualcuno ha avuto la febbre qualcuno ha avuto qualche problema di gastroinderite però non è che lo debbo svelare quindi quando un allenatore fa una formazione è facile dire ma perché non gioca a Caio perché non gioca a Sembroio uno dovrebbe sapere tutto quindi anche io ho qualche problema ma oggi ho un problema di abbondanza se vogliamo quando mi mancavano sette o otto giocatori non ho mai detto nulla oggi mi sento un dio con tutti quelli che ho a disposizione forse domani per la prima volta avremo la panchina lunghissima non dico nemmeno lunga perché porterò in ritiro tutti anche i ragazzi che sono arrivati ieri ieri l'altro in appendice ho già fatto la domanda prima questa gliela voglio fare ma da parecchio ma lei si sente osservato a livello superiore parlo positivamente in questo momento visto che la stampa a livello nazionale insomma le sta riservando abbastanza io dico che ognuno può dire io mi sento sempre carico mi sento mi sento sempre con un entusiasmo notevolissimo mi sento di poter dare ancora tantissimo a calcio anche perché è nel pieno della maturazione di un allenatore la mia età il problema è che io ho iniziato troppo giovane ripeto se io fossi stato quello di oggi quello di qualche anno fa 20 anni fa 15 anni fa probabilmente avrei fatto un'altra carriera però voglio ribadire un concetto poi non so che iscriveranno da casa e tutt'altro io comunque mi sento orgoglioso mi sento fortunato perché faccio il mestiere più bello del mondo faccio un mestiere che miglioro il giocatore che cerco di dare al tifoso una settimana bella e quando non ci riesco vergogno anche di andarmi a prendere il caffè al bar penso di essere un educatore perché sa che le dico i figli e concludo si baciano quanto si dorme durante la giornata se tu vuoi bene a un figlio non lo puoi trattare bene nel massimo del rispetto io avrò allenato mille giocatori mille cento giocatori non lo so quanti non lo so quanti di costoro se lei gli va a domandare ti parla male di Capuano magari qualcuno potrà dire posso piacere diciamo calcisticamente ma difficilmente ma molto difficilmente si trova una cosa del genere e poi l'ultima domanda qual era chiedo scusa allora chiedo Venia se mi sono lasciato andare anche io penso di essere un essere umano a prescindere la responsabilità che ho va bene grazie a tutti grazie 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 Grazie.